La vita di tutti sono tante le sfide piccole o grandi che quotidianamente siamo chiamati ad affrontare. Può capitare che l'ostacolo davanti a noi sembri assolutamente insormontabile e quindi camminare insieme ad un professionista guardando l'obiettivo e lavorando su se stessi può aiutarci sicuramente al suo raggiungimento. Parleremo di questo con la nostra prossima ospite Ilaria Menozzo, Mental Life Executive Sport Coach. Bentrovata! Ciao Diletta, buongiorno e grazie per l'invito. Ilaria, quindi oggi parliamo di coaching ma prima di addentrarci appunto in queste strategie e nei percorsi facciamo anche un pochino di chiarezza. Che cosa intendiamo quando parliamo di coaching? Quando parliamo di coaching ci riferiamo ad un percorso tra il coach ed il cliente, un percorso di accompagnamento che si fonda su dei pilastri fondamentali che sono la consapevolezza, la scelta, la responsabilità, l'autonomia e la fiducia. Praticamente è un ponte tra quello che è la storia, la situazione attuale e quello che è il nostro futuro desiderato. Futuro che ci può portare nella direzione della felicità. In che modo? Aumentando e migliorando la qualità della vita da un punto di vista fisico, mentale, relazionale, in ogni ambito del nostro quotidiano. Per cui mira all'ottenimento dell'autorealizzazione che è il bisogno più importante di quelli che sono i bisogni umani, come ci diceva tanto, tanto tempo fa, già Maslow. Quello è quello a cui l'uomo punta. Per ottenere questa autorealizzazione bisogna riuscire a convertirsi in una nuova dimensione del fare, dell'essere e del sentire. Infatti il fondamento principale di ogni percorso di coaching è proprio il fare. Perché se non si modificano le azioni quotidiane che vanno così a modificare anche i nostri pattern comportamentali, gli schemi secondo cui noi agiamo tutti i giorni, ovviamente non otterremo risultati diversi. Bisogna fare in maniera diversa puntando al nostro obiettivo ed i risultati arriveranno. Ovviamente tutto questo non lo si può fare da soli quando si vive un momento di appannaggio o quando semplicemente si vuole migliorare la propria condizione di vita. Si vuole ottenere un traguardo ancora più importante, quindi c'è un pochettino, sai, di ansia e ovviamente un professionista in questo ti accompagna. Però l'obiettivo fondamentale, come ti dicevo poc'anzi, è proprio l'autonomia del cliente. Perché dopo un percorso di coaching la persona diventa autonoma, riesce ad immagazzinare tutti questi accorgimenti in maniera tale da poi diventare quello che sarà per il resto della sua vita. Cioè la migliore versione di se stessi. Perché con il percorso di coaching si evolve, si cresce. Si massimizzano le proprie potenzialità. Quindi quali sono i pilastri su cui insieme ad una professionista come te si costruisce questo percorso? I pilastri fondamentali sono il rendersi conto insieme al professionista che la felicità è uno stato dell'essere. Quindi la felicità è una scelta e noi ogni giorno abbiamo il diritto e l'obbligo di fare qualcosa per raggiungerla. In che modo? Innanzitutto con quelli che sono appunto i pilastri, come dicevamo prima, avendo consapevolezza di sé, consapevolezza del proprio scopo, quello dove si vuole arrivare, ma soprattutto consapevolezza del proprio potenziale interno. Perché dentro ognuno di noi la potenzialità inespressa, il percorso di coaching si fonda molto su delle domande aperte che mettono la persona in condizioni di avere consapevolezza di sé, di ascoltarsi, però bisogna andare nella direzione della fiducia dei propri mezzi. Perché tutto il potenziale già c'è, ma viene spesso messo da parte, accantonato, oppure per delle distorsioni che noi operiamo ovviamente tutti i giorni, perché il nostro cervello è programmato per la comodità, quindi va a risparmio energetico, preferisce allontanarsi dal dolore piuttosto che avvicinarsi al piacere. Quindi vive perennemente nella zona di comfort. Purtroppo però questo non rende liberi e non rende felici, perché ci sarà sempre quella spinta nostra a volere di più, ad andare incontro a quello che è l'espressione del nostro potenziale. Il più grande spreco è quello non riuscire a farlo esplodere, a farlo evolvere. Questo fa il coach insieme al suo cliente, gli dà responsabilità su quelle che sono le azioni quotidiane da implementare. E soprattutto si lavora sul dialogo interno, perché noi facciamo televisione, siamo costantemente attenti alla comunicazione, all'ascolto dell'altro. Ma spesso non ascoltiamo noi stessi, non ascoltiamo noi stessi nel modo giusto. Non c'è un ascolto attivo, ma c'è un ascolto filtrato. Ascoltiamo certi segnali, ma quelli più profondi no, un po' perché siamo ovviamente presi dalle routine di tutti i giorni, che sono frenetiche, un po' perché ascoltarci ci fa paura, perché la prova più importante è quella davanti allo specchio. È molto molto più difficile ascoltare se stessi. E quindi a chi è rivolto questo percorso di coaching? È rivolto a chiunque, non c'è limite d'età, è rivolto a chiunque viva un conflitto interno, una crisi di governo interno, quindi viva una condizione in cui sta stretto, sta stretto in una relazione, in una posizione lavorativa, o chiunque voglia migliorare qualche aspetto della propria vita, più di uno. Quindi chiunque voglia cambiare la sua posizione o voglia creare qualche cosa di nuovo. Ma è volto anche a chi magari sente un fuoco dentro, perché dopo anni e anni in cui è stato in una relazione, è stato in un determinato contesto lavorativo, sente il bisogno di cambiare. E il cambiamento è quello che più fa paura all'umanità, perché è quello che ti deve allontanare dal tuo guscio ed è quello che ti fa spendere più energie. Quindi molte volte questo desiderio di cambiamento noi lo reprimiamo, ma verrà sempre fuori. Perché quello che bisogna fare è ascoltare i propri valori. Il mio valore, quella che è la mia gerarchia di valori, deve essere la mia guida. Se mi sto distaccando perché sto con una persona che mi fa andare contro i miei valori, in un contesto lavorativo che mi minimizza, non sarò mai felice. E con il coaching si riesce a scomporre ogni aspetto di questa situazione e si raggiunge appunto quello che è un nuovo stato proprio dell'essere. Attraverso, però ricordiamolo sempre, il fare, azioni quotidiane. Ma quanto può durare questo percorso? Il percorso è molto molto flessibile in base a quelli che sono gli obiettivi propositi. C'è una prima sessione conoscitiva di letta che dovrebbe durare all'incirca 20 minuti, in cui si esplorano appunto i valori della persona, le sue potenzialità e soprattutto il suo bisogno, la richiesta di aiuto. Lì si stila un piano di azione, ovviamente questo nel corso delle sessioni, un piano di azione e le sessioni possono essere 5, possono essere 10, 20, possono durare. Certo è che alla fine del percorso ci sarà una persona nuova, più consapevole, che poi saprà muoversi in autonomia e in maniera responsabile. Però diciamo che è molto flessibile perché mi è capitato molte volte che si parte da una sfera della vita per arrivarne ad un'altra. Quindi magari poi le sessioni a volte finiscono prima, perché la persona diventa talmente autonoma e talmente riesce ad avere... Che è pronta ad affrontare la vita da sola e altri poi possono... Altri possono proseguire oltre. Per proseguire e prolungare ovviamente nel loro percorso di coaching. Io ti ringrazio di essere stata in nostra compagnia, complimenti per questa attività. E quindi ringraziamo ancora una volta Ilaria Mannozzo, Mental Life Executive Sport Coach. Pubblicità, rimanete con noi.